In questi giorni fioccano le polemiche sul salario minimo proposta unitaria delle opposizioni, perché la maggioranza è contraria? Ma intanto è abbastanza bezzarro che chi ha governato 11 degli ultimi 10 anni o gli ultimi 5 anni della scorsa legislatura, potendolo fare, non ha mai messo in campo questa misura che sembra assolutamente necessario e urgente come salario minimo. Noi crediamo che più che il salario minimo andrebbero aumentati ovviamente i salari, non per legge ma attraverso una serie di condizioni che possono permettere le imprese di poter attraverso lo sgravo delle aliquole fiscali, attraverso la riduzione del cuneo fiscale già in parte messo a sistema con i provvedimenti del governo Meloni, riuscire ad alzare le paghe. Perché se così non fosse, ricordiamo che già per coloro i quali usufruiscono i contratti nazionali la paga media è più alta rispetto a quella prevista dal salario minimo. Governo nel mirino delle opposizioni, anche sui presunti ritardi sul PNRR, lei che cosa replica? Mi sembrano delle favole che quotidianamente continuano a essere raccontate. Il governo non è in ritardo sul PNRR, noi ci siamo trovati questo piano appunto elaborato dai governi precedenti, alcune di questi provvedimenti considerando che per l'85% dei soldi del PNRR sono soldi a prestito, probabilmente non sono state fatte le scelte giuste, andavano sicuramente incentivati di più gli investimenti sulle infrastrutture, gli unici fondi a perdere potevano e dovevano essere usati nella sanità, invece vediamo che moltissimi di questi fondi vengono usati dai comuni per coprire un attimino diciamo le loro mancanze magari anche elettorali e questo oggettivamente non è accettabile. Detto questo siamo andando avanti, nonostante la narrazione delle sinistre dei gufi, il perore PNRR è completamente attuato e ci auguriamo di continuare esattamente in questo modo pur non condividendo alcune scelte che ahimè invece dovremo finanziare attraverso questi fondi. Lei è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia dell'Emilia Romagna, l'alluvione è sempre ancora all'ordine del giorno, qual è lo stato dell'arte e soprattutto i fondi che bisogna stanziare per la ricostruzione? I fondi ci sono stati fin dai primi giorni, i 30 milioni per l'emergenza, i di fatto 4 miliardi stanziati nei due decreti, la nomina del commissario Friuolo per la ricostruzione è un quadro ovviamente in costante evoluzione rispetto al poter mettere a terra ovviamente tutti e non solo più e non più solo i provvedimenti ma anche le opere e questo è chiaro che purtroppo ci troviamo ancora di fronte al tipico sport italico ovvero di qualcuno che si approfitta, sono purtroppo infatti moltissimi i comuni dell'Emilia Romagna che hanno attraverso la regione chiesto fondi all'interno del pacchetto decreto per situazioni che nulla, i danneggiamenti che nulla avevano a che fare con l'alluvione. Bene ha fatto il generale Friuolo ieri a dichiarare che l'Emilia Romagna non sarà come l'Irpinia cercando di interpretare una narrazione per cui dopo il terremoto dell'80 in quelle zone ci furono diversi sprechi, non deve essere così, tutti coloro che hanno perso qualcosa devono averlo restituito ma non ci può essere nessuno che si può approfittare delle svinture altrui.